Ciao ragazzi, bentornati su questo canale. Oggi parliamo di Lo, Rufi e Kid e proviamo a capire quale sarà la loro prossima destinazione. Ci viene in aiuto un volumetto uscito l'anno scorso, chiamato One Piece Rurubu, in cui venivano mostrati tutti i luoghi da cui Oda aveva preso ispirazione per creare i luoghi all'interno di One Piece. Oltre a questo però c'era una mappa con tutte le isole che abbiamo visto e anche con quelle che vengono dopo Wano. E quindi avevamo Wano e intorno a Wano altre tre isole, Elbaf, Sphinx e Hachinosu, l'isola dei pirati su cui si trova Barba Nera. Ora, quell'immagine in quel momento, un anno fa, non era confermata, tant'è che queste isole, i loro nomi, erano accompagnati da un punto di domanda. Ma oggi, dopo aver rivisto nel capitolo 1056 la stessa immagine disegnata nello stesso modo, probabilmente possiamo dire con fiducia, con quasi certezza, che quelle isole sono le stesse indicate nel volume speciale. E quindi che quei nomi sono veri, sono reali. Se fosse così, i Mugiwara approderebbero a Sphinx, l'isola di Barba Bianca, l'isola dove c'è la tomba di Ace. Quindi sarebbe l'occasione per Rufy di rendere omaggio a suo fratello defunto, ma c'è anche la possibilità che su quell'isola arrivi Weeble. La storyline di Weeble deve, per forza di cose, andare avanti, si dice che sia il figlio di Barba Bianca, quindi quale isola migliore, se non l'isola di Barba Bianca, per dedicargli una saga, per approfondirlo come personaggio, per creare questo incontro tra Rufy, Marco e Weeble? Passiamo poi a Loh. Loh forse è stato, Loh anche è stato abbastanza fortunato, diciamo così. Ha preso un'isola importante per il mondo di One Piece, oppure importante per noi lettori, perché comunque la sentiamo nominare da tempo. Elbath. Probabilmente il chirurgo metterà piede sull'isola dei giganti. Secondo me questa scelta è interessante per un semplice motivo. Io non mi aspettavo che Loh si lasciasse indietro la chirurgo, praticamente, che decidesse di dividersi, ma ovviamente l'alleanza è finita e quindi ognuno andrà per la propria strada. Però noi sappiamo anche che i Mugiwara prima o poi andranno ad Elbath. Quindi chissà, magari Loh comincia ad andare lì. Poi i Mugiwara vanno a Sphinx, avremo magari una breve saga a Sphinx e poi giungeranno ad Elbath incontrando nuovamente Loh e forse portandoselo fino alla fine. Del resto Loh vuole scoprire il segreto della D, vuole sapere qualcosina in più con la storia. Quindi ci sta che magari, quando una volta finiti gli eventi di Sphinx e di Elbath, i Mugiwara si preparano forse alla guerra finale e con loro c'è anche Loh. Sfortunatissimo, Kid. Kid andrà ad Hachinosu. Hachinosu, oltre ad essere l'isola dei pirati, è anche la dimora di Barba Nera. Qualcuno potrebbe dire, ma Barba Nera forse non è lì, visto che aveva altri obiettivi. Però è passato del tempo, è passato circa un mese, quindi forse è tornato e se dovesse essere lì, ragazzi, per Kid non è che ci sarebbero molte speranze. Tra l'altro, Kid ha due Rod Ponegriff. Se dovesse essere sconfitto da Barba Nera, Barba Nera stesso li prenderebbe, li ruberebbe, no? E quindi ci ritroveremmo con un Barba Nera che possiede dei Rod Ponegriff. In più c'è la questione del Rod Ponegriff mancante. E nel flashback di Roger abbiamo visto che quello che manca è quello che era sull'isola dei Uomini Pesce. L'isola dei Uomini Pesce apparteneva, era controllata da Barba Bianca e Titch era nella ciurma di Barba Bianca. È probabile, si può teorizzare, che magari dopo la morte di Barba Bianca, Titch, conoscendo l'ubicazione di questo Rod Ponegriff, è andato a prenderlo. E quindi potrebbe almeno averne uno. E rubando i due a Kid, se ne ritroverebbe ben tre in mano, come Rufy. E quindi poi andremmo allo scontro finale, con entrambi, con tre Rod Ponegriff. Uno, quello che manca a Luffy c'è la Barba Nera, quello che manca a Barba Nera c'è la Rufy. Semplicemente. Per Kid invece, se dovesse essere sconfitto, diciamo che mi dispiacerebbe perché il personaggio rimane molto interessante. Però ragazzi, sappiamo che non è lui quello che si deve giocare in One Piece fino alla fine con Rufy. Quindi se dovesse essere sconfitto ad un passo dalla meta, un po' prima di Laugh Tale, da quello che è il nemico, la nemesi principale di Rufy, diciamo che non mi sorprenderei molto. Ci può anche stare, no? Poi non è detto che se viene sconfitto viene messo da parte. Potrebbe comunque partecipare alla guerra finale. Magari nuovamente alleato con Rufy. Detto ciò, in questo discorso non vengono presi in considerazione Shanks e Buggy, che sono un pochino due mine vaganti. Secondo me Shanks si tiene un po' da parte. Shanks osserverà e deciderà di intervenire nel momento che ritiene più opportuno. Quindi lo vedremo forse nella parte finale di questo arco narrativo finale. O almeno la vedo così. Ditemi ovviamente voi cosa ne pensate, se vi piacciono queste destinazioni e se volete lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!